Ieri, oggi e domani, anche nel 2024, il Bari riparte dal suo capitano, Valerio Di Cesare, anello di congiunzione tra la scorsa stagione, quella della promozione in asfumata all'ultima curva e questa che ha visto sin qui i biancorossi galleggiare tra le difficoltà di chi deve ripartire dopo una rivoluzione tecnica che non ha ancora dato gli esiti sperati e un cambio di allenatore con il passaggio di consegne dalle mani di Michele Mignani a quelle di Pasquale Marino dopo nove giornate di campionato. Sul campo i punti sono 23 e oggi valgono la decima posizione alla pare con Sampdoria e Reggiana a meno 5 dai playoff e con tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Alle porte c'è un calciomercato chiamato a correggere le lacune di una squadra che punta a stare tra le prime otto, momento di transizione in cui aggrapparsi alle certezze e di Cesare tra quelle oggi in squadra e di certo la più solida. A parlare per il capitano ci sono i numeri ben più forti di una carta di identità che il prossimo 23 maggio reciterà 41 anni. Sono 219 le presenze con il Bari accumulate tra serie B, C e D e in due distinte parentesi. La prima va ad agosto del 2015 a gennaio del 2017. La seconda si è aperta a settembre del 2018 e di chiudersi per ora non ne ha la minima intenzione. Anche nel campionato 2023-2024 di Cesare è stato al centro del Bari. In coppia con Vicari ha composto un asse complicato da superare per gli avversari davanti a Brenno. Non a caso con 20 gol al passivo, gli estessi di Cittadella e Brescia. Il Bari ha la terza miglior difesa della serie B 2023-2024 alle spalle di Parma e Cremonese. Il centrale romano si è fatto valere anche nell'area nemica. Sono suoi 4 dei 23 punti in cassa, merito di due reti dall'elevato coefficiente di difficoltà. Uno splendido piattone sinistro al volo nell'1-1 di Reggio Emilia il 7 ottobre, un gran sinistro di controbalzo nell'angolino opposto per il 2-1 al Sutirol del 9 dicembre, data dell'ultima vittoria del Bari in campionato. A luglio aveva annunciato il suo rinnovo di contratto spiegando di voler vivere al massimo quell'ultima chance per tornare in A. Concetto ribadito a ottobre, ritirando il premio Xen alla carriera dalle mani dell'ex difensore bianco-rosso Giorgio Detrizio. È l'ultimo anno che gioco e ho deciso di continuare per richiudere quella cicatrice, furono le parole di Di Cesare. Il direttore sportivo Ciro Polito vorrebbe convincerlo a proseguire sul campo, anche oltre la scadenza di giugno 2024, ma al momento la testa e il cuore del capitano del Bari sono proiettati solo sulla seconda parte di stagione. Come attesta il saluto al 2023 affidato al suo profilo Instagram, sei stato un mix di emozioni incredibili, fatto di pura felicità, grandissime delusioni e scelte difficili, scrive Di Cesare. Ho preso un altro patentino, quello da DS, perché sembra sia ora di pensare al futuro. Prima, però, devo finire quello che ho iniziato, 2024, con tanto di quadrifoglio, simbolo della fortuna, a chiudere il messaggio. Lo firma il capitano, certo di poter ancora condurre la nave fuori dai Marosi e in porto.